Il numero di pesca è ora con un retrato significativo della risurrezione di Gesù Cristo, che ne invia a pisarci ora in cielo a terra assenta e nei tempi. Per l'attualità va inante il commentare di Pruma di Erwin Valentini, che analizza la situazione e la prospettiva della Lìa di Comuns Ladins. Questa settembre è la piatta di poesie dedicata alla pesca e alla essuda. Sulla piatta di Fodon viene presentata il nuovo logo del Museo Ladin, Piotola di Zirn. Da Soramont ven dat conto della delibera proede dai Consigli di Comunità e da Ampèz del progetto dell'Istituto Ladin Cesare di Zan sulla regione di Aladina. Dalla piatta della Valbadia usano fuori la rappresentazione del Neftoc del teatro scritto da Jaco Rigo e l'intervista alla direttora della Scuola Sautes della Ila sul buon esit di questo istituto. Sulla piatta di Fasca viene annunziata il sud Aladina e le scommenzative di servizi associati per il benster della Comunanza. Viene scritta la scontreda con gli atleti che racconta la storia della gara seda con la Pauces e appedele la recensione del libro senza parole. Duta una piatta ne metta una intervista a Alessio De Lucca che conta di suo interesse per i retraccivegliesi. Per restare in tempo con la pesca l'è il corso dell'Unione di Ladin per intesa rieves al do della tradizione. e la curiosità del sui lieve a svegliora stegui sull'Amazon di Ciampedele. Se resona da po' dell'attività della Krauschechenade fa 6 fiemi. Viene ricorda una femmina che ha lasciato un buon esempio del volontariato. Esa pedele la neva rubrica del retrato da Indoiner. Da Gherdena viene scritta l'alìa filatelistica sia Presidente. E viene usata fuori al valore dell'artesanata artistica e il besende troer l'Urier Ranch. Del sport vengono scritte 10 sportivi della Sella Ronda Schimaraton, della prima squadra del Fasabalon che ha perduto contro l'Azzurra, dei risultati del passlong dell'atleta Moina e dell'atleta da St. Jean con la Bria. Viene fuori con la gara seda su cella del FasActive e con gli auguri ad oggi di una buona pesca. Sulla Ush di Ladin se ogni vendere potete trovare la neve seduta alla Ladinia. Per info e abbonamenti potete vi auguri alla redazione di FasA su un stradone a St. Jean. Telefon 0462 764545 mail FasA sgnecola laus.it Il Sfo Interladin lente online sul sit laus.it o tra bottegas de Sfoas de tutta la Val. A presto! A presto!